Vi eccoci, buongiorno e bentornati in questa nuova puntata di Io non mi rassegno, la rassegna stampa commentata di Italia che cambia. Nella puntata di oggi torniamo a parlare della questione politica di attualità in Italia, quindi il nuovo governo, la votazione sul Rousseau degli iscritti al Movimento 5 Stelle, l'addio di Di Battista, insomma tutto quel pezzetto di attualità là, poi parliamo della nuova probabile direttrice della World Trade Organization e infine del avvicendamento fra Londra e Amsterdam come hub finanziario più grande d'Europa. Va bene, partiamo dall'inizio e alla fine hanno votato, gli iscritti al Movimento 5 Stelle hanno votato ieri a favore del sostegno al governo di Mario Draghi, hanno votato sulla piattaforma russo ed erano in quasi 75.000, appunto ad aver espresso la propria preferenza, sui 120.000 di avventi diritti e di questi 75.000 i favorevoli al governo Draghi sono stati circa il 59%. Ha fatto però discutere più che il risultato come è stata posta la domanda, perché sia diversi iscritti che alcuni commentatori hanno sostenuto che la domanda era posta in maniera un po' tendenziosa. Ve la leggo, la domanda era, la domanda chiedeva, sei d'accordo che il Movimento sostenga un governo tecnico-politico che preveda un superministro della transizione ecologica e che difende i principali risultati raggiunti dal Movimento con le altre forze politiche indicate dal presidente incaricato Mario Draghi? Questa era la domanda. Ovviamente citando alcuni aspetti molto favorevoli del prendere una decisione positiva, appunto in molti hanno sostenuto che la domanda in sé fosse tendenziosa. Comunque fatto sta che la consultazione dei 5 Stelle era l'ultimo passaggio per arrivare alla composizione di una maggioranza parlamentare a sostegno dell'ex presidente della Banca Centrale Europea, Mario Draghi, che sarà veramente amplissima, la più ampia da, ampia, ampia, comunque avete capito, da, non lo so, da quando almeno io ne abbia memoria, non so, dovrei guardare gli storici, se, insomma, le serie storiche per vedere se c'è già stata una situazione del genere, ma comunque è una maggioranza che abbraccia da Liberi uguali a sinistra alla Lega di Salvini a destra, quindi passando appunto per il PD, Italia Viva, Forza Italia, adesso anche il Movimento 5 Stelle, praticamente tutti, tranne veramente pochissimi partiti. Adesso manca solo la lista dei ministri che sarà resa nota fra oggi e domani, dopodiché la nuova squadra sarà pronta per chiedere la fiducia al Parlamento. Tornando però alla questione votazione sul Rousseau, non tutti hanno accettato questa scelta, perché sto parlando in particolare di Alessandro Di Battista, che, insomma, conoscerete, attivista storico del Movimento 5 Stelle, parlamentare durante la prima legislatura del 2013, che praticamente ieri, giovedì, con un videomessaggio su Facebook, ha annunciato il suo addio al Movimento 5 Stelle. Di Battista, in realtà, era già da tempo abbastanza critico sulla linea politica presa dal Movimento negli ultimi mesi, e ha spiegato che questa decisione, la decisione di sostenere il prossimo governo Draghi, non è più compatibile con la sua coscienza politica e che, d'ora in avanti, non parlerà più a nome del Movimento 5 Stelle e il Movimento 5 Stelle non parlerà più a nome suo. Ok, piccola riflessione sull'intera faccenda. Il Movimento 5 Stelle chiede spesso ai suoi iscritti di esprimere la loro opinione su molti argomenti, il che di per sé è una cosa bella, ma chi ha il potere di scegliere le domande? Questa è una domanda interessante, perché chi decide come formularle? Ci sono centinaia di studi che mostrano come, anche cambiando di poco la formulazione di una domanda, si possano ottenere risultati nelle risposte anche diametralmente opposti. E sono studi, fra l'altro, realizzati nelle più prestigiose università del mondo, con gli studenti di queste università, quindi non è un problema di incompetenza o di mancanza di intelligenza. Sono altri meccanismi più emotivi che si attivano in queste situazioni e che appunto hanno a che fare con come funziona proprio il nostro cervello. Sono dei veri e propri bias cognitivi. Ecco, la mia sensazione è che il Movimento 5 Stelle e i suoi attivisti abbiano intuito per primi fra le forze politiche un aspetto molto importante, forse il più importante di tutti, ovvero che c'è qualcosa che non funziona nella democrazia rappresentativa elettorale di oggi. Solo che poi nel cercare di risolvere questo problema abbiano puntato il bersaglio sbagliato, quindi si siano concentrati sull'unico aspetto della democrazia che è in fin dei conti veramente trascurabile, ovvero il voto. Tant'è che in molti modelli di democrazia evoluta il voto neanche esiste, tipo in sociocrazia, oppure esiste ma ha un ruolo molto marginale, tipo nella democrazia deliberativa. E invece abbiano trascurato i 5 Stelle gli aspetti veramente importanti, ovvero tutto quello che c'è prima del voto, il processo che costruisce, la decisione che mette tutte le persone nelle condizioni di prendere una decisione che sia corretta, informata e consapevole e anche nelle condizioni di lavorare correttamente tutti assieme. Insomma, per concludere, l'intuizione è corretta e l'idea di una democrazia diretta, anche supportata da internet, potrebbe avere delle ottime potenzialità, solo che c'è un po' da lavorarci probabilmente, c'è da rispostare il focus un po' più a monte, ma comunque, insomma, questa ovviamente poi è la mia opinione. Comunque detto ciò, passiamo a un altro argomento abbastanza controverso, altrettanto controverso, di cui ci parla internazionale, perché fa discutere nel bene e nel male la probabile nomina di Ngozi Okonio Iweala, ex ministra delle finanze degli esteri della Nigeria, come prossima direttrice dell'Organizzazione Mondiale del Commercio, la World Trade Organization. Perché fa discutere? Perché da un lato, secondo molti, è una svolta importante avere una donna nera e africana alla guida di una delle principali istituzioni finanziarie mondiali, sostenendo che, appunto, in questo momento decisivo per l'Africa, che a lungo e tuttora viene soffocata molto spesso dalle istituzioni straniere, istituzioni finanziarie, dalle potenze straniere, insomma, potrebbe essere un modo per riscattarsi, un modo per comunque assumere una posizione differente nei rapporti di forza con le potenze estere, che a lungo hanno sfruttato le sue risorse e che spesso continuano a farlo. Secondo, però, un'altra corrente, quella più di sinistra, potremmo dire, del continente africano, potrebbe anche questo essere un po' uno specchietto per le allodole. Cioè, se tutto si riducesse, come spesso accade, proprio al fatto di avere una donna nera e africana, che però, quindi solo una, diciamo, una nomina di facciata, che però poi pratica le stesse politiche neoliberiste responsabili di ostacolare appunto di fatto il continente africano, allora si tratterebbe di una rappresentanza del tutto controproducente. E da questo punto di vista, almeno sulla carta, la carriera della Okonjo non ispira molta fiducia in questo senso, perché come Ministro delle Finanze della Nigeria aveva già preso in passato delle decisioni piuttosto impopolari, fra cui l'accordo con il Club di Parigi. Il Club di Parigi sarebbe il club che riunisce i vari creditori ufficiali occidentali e il Giappone, creditori ovviamente verso il continente africano, coloro che hanno in mano i titoli di debito. Ecco, la Okonjo ha preso questo accordo con il Club di Parigi per ristrutturare il debito estero della Nigeria nel 2003, che era un debito contratto dai dittatori corrotti e che secondo molti non doveva proprio essere ripagato perché era del tutto illegittimo, mentre la Okonjo si accordò di fatto con i creditori per un abbassamento, un taglio del debito, ma che comunque venne ripagato per, insomma, un po' più della metà. Quindi, che dire, avere una donna africana a capo della principale organizzazione mondiale del commercio è un simbolo e i simboli sono importanti, non è che non valgono niente. Però i simboli da soli non bastano, quindi ieri parlavamo della differenza fra ecologia di superficie ed ecologia profonda. Potremmo dire lo stesso per l'integrazione. C'è un'integrazione di superficie in cui accettiamo le diversità superficiali e cosa c'è di più superficiale del colore della pelle? È la nostra superficie per antonomasia. Ma a patto di un'uniformità culturale sostanziale, cioè dobbiamo comunque essere tutti d'accordo sul modello economico-culturale da accettare, e allora possiamo, così, soprassedere su quello che abbiamo in superficie. E questa, ovviamente, è un'integrazione di superficie. C'è poi un'integrazione profonda in cui accogliamo e rispettiamo a vicenda le nostre diversità e credo che è a quest'ultima che dovremmo mirare, piuttosto che a, appunto, un'integrazione di superficie che invece spesso è quella che va per la maggiore. Comunque, chiudendo... chiudendo... chiudendo anche questa notizia, passiamo all'ultima perché stiamo già a dieci minuti, mi sono appena accorto e mi ho preso un colpo. Cerchiamo di farla... cerco di raccontarvela velocemente. Ultima notizia è, sottotitolo, effetti collaterali della Brexit. Perché a gennaio Amsterdam è diventato il più grande hub finanziario d'Europa, aumentando di circa quattro volte il valore di quote scambiate quotidianamente rispetto al 2020 e superando Londra. Come mai è successo questa cosa? Perché sostiene il post, citando il Financial Times, che questo importante cambiamento è stato, appunto, provocato da Brexit. Considerate che Londra è stata per molti decenni il più grande e importante mercato finanziario europeo e per diversi anni anche il più grande e importante mercato finanziario mondiale. Solo ultimamente era stata superata da New York. Ma a partire da gennaio, sostanzialmente, a causa del mancato accordo fra il Regno Unito e l'Unione Europea, quando si è comunque verificata la completa uscita del Regno Unito dall'Unione, l'Unione Europea non ha riconosciuto ai mercati finanziari britannici un regime di equivalenza. Quindi l'Unione, in pratica, non considera che la regolamentazione finanziaria britannica sia a livello di quella comunitaria. Quindi ha vietato alle banche e alle istituzioni finanziarie europee di comprare e vendere titoli in euro sui mercati finanziari britannici. Sembra una cosa molto tecnica, ma sostanzialmente il risultato di questa cosa è che un sacco di operazioni che prima avvenivano a Londra sono state spostate altrove. E soprattutto ad Amsterdam, dove nel solo mese di gennaio il valore totale delle azioni scambiate è passate da una media del 2020, che era di 2,6 miliardi di euro al giorno, a 9,2 miliardi di euro al giorno. Nel frattempo lo stesso valore a Londra è più che dimezzato, passando da 17,5 miliardi a 8,6 miliardi. Anche le borse di altri paesi dell'Unione Europea, fra l'altro, hanno risentito in positivo di questo spostamento, nel senso che hanno aumentato il loro valore di transazioni, soprattutto Francoforte, Parigi, ma in piccola parte anche Milano e Dublino. Va bene, detto ciò, io vi saluto perché siamo quasi a 13 minuti, vi do appuntamento a lunedì, perché domani è sabato con una nuova puntata di domenica di assegno, sempre al 10 e sempre per 10 minuti e come ogni giorno vi ricordo che chi si trassegna è perduto. Ciao!